Siamo con Mattia Bani, è la settimana che segue a Spezze e Provercelli 1 a 1, è la settimana che porta a Provercelli Latina. Innanzitutto ti chiedo che soddisfazione è stata per te, per voi inteso come squadra, riuscire a strappare un punto importante come quello di Spezze? Sicuramente grandissimo, anche perché soprattutto in riferimento allo scorso anno abbiamo fatto qualche differenza in più in trasferta e penso che non abbiamo fatto magari una partita bellissima ma di grandissima concortezza, di grandissimo carattere da squadra vera che ci tornerà utile per il proseguire il campionato. Come è cambiato Mattia Bani in questi anni? Tu sei comunque uno dei giocatori che ha a Vercelli da più tempo. Sì, ho la barba in più. No, sono cresciuto sicuramente dal punto di vista sia calcistico che umano e mi ha aiutato tanto Vercelli e la Provercelli e pian piano sto sempre giocando di più anche negli anni e spero di accumulare sempre più presenze e esperienze. Provercelli Latina, un'altra partita importante, sono tutto importanti, lo si dice sempre, però si gioca allo stadio Silvio Piola dopo quattro punti nelle prime due partite bisogna sicuramente valorizzare anche questi punti. Certo, sì, noi vogliamo e ci teniamo a continuare questa striscia positiva, lo dovremo fare in casa dove abbiamo sempre fatto grandi prestazioni e proviamo a ripeterci già sabato.